Non dobbiamo limitarci e dire no alla pena di morte, dobbiamo soprattutto non arrenderci a questa politica di vendetta che ha sete di vendetta, che vuole punire a tutti i costi qualcuno. Il messaggio più importante da passare agli studenti è non arrendetevi a questo, ma soprattutto credete nei valori della famiglia, dell'amicizia, in ciò che la vita vi ha dato. Sono le parole di Curtis McCarty che ha ricordato a Melfi la sua esperienza nel braccio della morte. McCarty che ha trascorso da innocente 21 anni nel braccio della morte dell'Oklahoma, prima di riuscire a provare la sua innocenza, ha portato la sua testimonianza alla giornata di riflessione sulla pena di morte organizzata dall'Istituto Superiore Gasparrini della cittadina federiciana. Un'iniziativa realizzata in collaborazione con la locale amministrazione comunale e la comunità di Sant'Egidio. Una giornata ricca di testimonianze, di battiti ed un concerto in nuova vita preparato dagli stessi studenti. I ragazzi sono preparati in maniera veramente deliziosa a questo avvenimento, con grandi lavori, grandi riflessioni in classe. E quello che stiamo vedendo sono alcuni spunti, alcune sintesi dei lavori fatti. È una giornata che ha segnato e segnerà la vita di questi ragazzi in senso positivo. È una maniera nuova di fare scuola, è una maniera di vita, è una lezione di vita, di attualità, oltre che di storia e di diritto.